Mister, vinciva proprio sul fischio finale, ha un sapore ancora più bello, no? Dipende dal punto di vista, avrei preferito farlo in modo un po' più comodo, visto che secondo me non abbiamo fatto una partita eccelsa dal punto di vista dei ritmi, della precisione, della velocità dei passaggi, ci può stare, non è una colpa, alla fine ho ripresentato gli stessi 11 di Pisa e secondo me qualcosa abbiamo pagato sotto l'aspetto fisico. Non è un alibi ma a discapito ai giocatori posso dire che ho fatto un errore clamoroso perché ho fatto bagnare il campo troppo a ridosso della partita e più di qualche uno rientro dal riscaldamento lamentava un campo pastoso e pesante, poteva essere pastoso e pesante pure per l'Arzachena, perché lo dico che non è un alibi, è vero pure che l'Arzachena non ha giocato l'infrasettimanale quindi è apparsa anche un po' più brillante di noi. Detto questo abbiamo fatto almeno 12 occasioni da gol abbastanza grosse e abbiamo diventato un po' più cinici nel farle perché dopo un quarto d'ora potevamo essere due a zero e aver chiuso la partita, invece siamo stati a tribolare e aver fatto gol al 95esimo. Un'Arzachena che aveva anche per scelta tattica, scelta puntativa di aspettare l'Arzio una prova metà campo, non era neanche facile trovare spazi con le loro linee molto strette. No, però noi l'avevamo preparato in questo modo qua, sapevamo che potevamo incorrere in questa difficoltà qua e dovevamo sbloccare il risultato. o sapevamo di dover sbloccare il risultato perché poi tu costringi a fare a squadra avversaria un tipo di calcio che magari non aveva preparato di fare e ti si può aprire un portone diverso. Così non è stato, anzi di contro abbiamo commesso un'ingenuità e gli abbiamo fatto gol noi e dopo queste partite qua si rischia di perderle quindi prendiamo il bicchiere mezzo pieno.